simo scusa ma io da oggi non ho più bisogno di te vero dottor squalozzi vuoi dire che hai scoperto come mangiare sano certo il dottor squalozzi mi ha consigliato il clean eating e come si fa e che ne so e voi amici avete sentito parlare di clean eating sapete cos'è lo avete provato oppure una parola sconosciuta ma soprattutto funziona questo è quello che vediamo nel video di oggi dove sveliamo la verità su questo fenomeno e sfatiamo un po di falsi miti subito se vi piace l'idea mettete un mi piace a questo video tanti mi piace tanti nuovi video che cos'è il clean eating è uno stile alimentare nato di recente in america è diventato popolare negli ultimi anni grazie a instagram non è una battuta di questo parleremo dopo il concetto di base del clean eating è abbastanza semplice evitare il più possibile gli alimenti confezionati e preferire gli alimenti freschi clean vuol dire pulito e anche fare pulizia del cibo spazzatura e sostituirlo col cibo naturale riguardo alla qualità degli ingredienti bisogna scegliere il massimo ma anche il massimo che ci permette il portafoglio cioè poco ma buono e sembra di sì e qui sfatiamo i due primi falsi miti primo questi concetti non sono una novità sono i concetti base della naturopatia che è stata la prima disciplina a occuparsi del cibo come strumento di benessere ma io ne parlo da anni nei miei video secondo mangiare poco in senso assoluto non è sempre la soluzione ideale sono la costituzione fisica e lo stile di vita a determinare quanto dovremmo mangiare andiamo avanti ma prima se trovate utili i miei video e volete aiutarmi a diffondere la salute naturale fate così mettete mi piace iscrivetevi attivate la campanella delle notifiche e abbonatevi con un piccolo contributo mensile dedicato al canale info in descrizione dove metto anche il link ai miei libri ebook playlist e tutto quanto dicevo il clean eating è diventato famoso grazie al successo di alcune blogger americane su instagram lo hanno usato come cavallo di battaglia della loro popolarità innescando un fenomeno mondiale e una gara a suon di selfie che immortalano fisici scolpiti e foto food porn di insalate e cibi healthy food porn si foto del cibo esteticamente impeccabile che crea desiderio ma fin qui niente di male anzi un po di sensibilizzazione sul cibo naturale va sempre bene allora anch'io diventerò come loro se seguo il clean eating ma dipende questo è il falso mito numero 3 le blogger o influencer più famose lavorano moltissimo per raggiungere mantenere un fisico perfetto fanno sport sono attentissime alla dieta e chissà che cos'altro che non vediamo per noi gente comune non è possibile seguire lo stesso stile di vita e ottenere gli stessi risultati se non teniamo conto delle nostre vere esigenze e ci fissiamo sul cibo in modo ossessivo non è sano lo dico anch'io se diventa un disturbo alimentare si chiama ortoressia mangiare sano fa bene ma siamo tutti diversi e abbiamo bisogno di trovare il nostro giusto equilibrio non quello delle blogger famose che non fanno altro bisogna sempre seguire un percorso costruito su misura come un vestito che ci sta bene addosso questo è il lavoro della naturopatia è il mio lavoro se volete un coaching personalizzato con me c'è il link in descrizione allora questo clean eating è una gran conchigliata ma no assolutamente no mangiare meno cibo spazzatura fa bene scegliere ingredienti sani fa bene scegliere alimenti di qualità fa bene e preparare i cibi in casa fa bene ma non bisogna farsi illudere dalle sirene dei social e dalle foto che vediamo su instagram perché sono costruite meticolosamente la consapevolezza paga seguire la moda non sempre se ami anche tu la salute naturale metti mi piace e condividi questo video trendy e sano naturalmente ciao 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 ciao